Dov'è Marco? Ah, porco Dio. Ulag. Prossimo sono io. Ah, senti passi. Sei attività nemica! Eh, te ne è uno anche lì allora. Passi anche dove sono io. Eh, anche qua. Compagno capo. Ha portato una Claymore. Ha portato una Claymore. Porco Dio. Eh. Provo a muovermi piano piano dentro. Ah! Porco Dio! Fingio di merda! Porco una putana! Io ne ho fatto un altro. Dai! Mi sono visto la diretta del Mattia. Mi sono visto la diretta del Mattia. Di un cane.